di franz kafka il processo voce di lorenzo pieri capitolo settimo parte seconda non giovavano molto continuò d'avvocato huld i rimproveri specialmente quando non si riesce a farne comprendere le cause in tutto il loro significato ma bisognava pur dire quanto k avesse nociuto alla sua causa col contegno assunto di fronte al direttore delle cancellerie uomo influente che ormai bisognava cancellare dall'elenco di coloro coi quali era possibile intraprendere qualcosa in favore di k si vedeva chiaramente che scansava apposta persino fugaci accenni al processo in varie circostanze gli impiegati erano come bambini spesso si offendevano perinezie tra le quali purtroppo non si poteva annoverare il comportamento di k al punto che smettevano di parlare persino con buoni amici guardavano dall'altra parte incontrandoli e li osteggiavano in tutti i modi poi continuò l'avvocato huld a un tratto di sorpresa e senza un particolare motivo con una cellia che si osa fare soltanto perché tutto sembra perduto si lasciano indurre alla risata e sono belli che riconciliati certo trattare con loro è a un tempo facile e difficile non c'è regola cui si possa attenersi certe volte c'è da stupirsi che una singola vita media sia sufficiente a comprendere quanto occorre per agire con qualche buon risultato certo arrivano momenti tristi come ne abbiamo tutti nei quali si crede di non aver raggiunto niente di niente e sembra che a buon fine siano arrivati soltanto i processi destinati fin dal principio ad avere un esito favorevole come sarebbe avvenuto anche senza aiuti mentre tutti gli altri sono falliti nonostante ogni assistenza ogni fatica ogni piccolo apparente successo del quale ci si era molto rallegrati allora nulla pare sicuro e a determinate domande non si oserebbe neanche negare che processi bene avviati per loro natura siano stati portati su una falsa strada proprio dall'assistenza ricevuta anche questa è una specie di fiducia in sé ma è l'unica che poi rimane a tali crisi naturalmente sono soltanto crisi nient'altro gli avvocati sono esposti specialmente quando un processo che hanno condotto abbastanza avanti e in modo soddisfacente viene loro tolto di mano questo è il peggio che possa capitare a un avvocato il processo non è tolto loro dall'imputato ciò non avviene forse mai un imputato che abbia preso un determinato patrono deve rimanere con lui qualunque cosa accada una volta che sia ricorso al suo patrocinio come farebbe a sostenersi da solo dunque ciò non avviene talvolta però accade che il processo prenda una piega dove l'avvocato non può più seguirlo tutto quanto il processo e l'imputato vengono semplicemente sottratti all'avvocato e allora nemmeno i migliori rapporti coi funzionari possono essere d'aiuto perché essi stessi non sanno nulla il processo è arrivato ad una fase in cui non è più lecito portare alcun aiuto esso passa sotto la competenza di corti inaccessibili dove l'avvocato non può più raggiungere l'accusato allora un bel giorno uno arriva a casa e trova sulla scrivania tutte le numerose memorie che ha compilato per questa causa con ogni diligenza e con le più belle speranze se le vede restituite perché non devono essere trasferite nella nuova fase del processo non sono altro che stracci senza valore ma non per questo il processo è necessariamente perduto niente affatto o perlomeno non esiste alcuna ragione plausibile di questa ipotesi soltanto non si sa più nulla del processo e non se ne saprà nulla mai più ora disse fortunatamente i casi di questo genere erano eccezioni e se anche il processo di k fosse stato così per il momento era ancora molto lontano da questa fase c'erano ancora sufficienti occasioni perché l'avvocato potesse lavorare e k poteva essere sicuro che egli li avrebbe sfruttate la comparsa non era ancora presentata ma non c'era nemmeno fretta molto più importanti erano le discussioni preliminari con funzionari competenti e queste erano già avvenute con vari risultati come bisognava confessare apertamente per il momento era opportuno non rivelare particolari che potevano esercitare su k un influsso dannoso e alimentare troppo le sue speranze o deprimerlo troppo bastava dire che alcuni si erano dichiarati molto favorevoli e anche ben disposti mentre altri erano meno favorevoli ma non avevano affatto negato la loro collaborazione in complesso dunque il risultato era soddisfacente soltanto non bisognava trarne conclusioni concrete perché tutte le trattative preliminari cominciavano così e soltanto lo sviluppo successivo rivelava il valore di queste trattative comunque fosse nulla era ancora perduto e se nonostante tutto si riusciva a riconquistare il direttore delle cancellerie varie mosse erano già avviate in questo senso allora ci si trovava come dicono i chirurghi davanti ad una piaga pulita e si poteva tranquillamente aspettare il seguito l'avvocato era inesauribile nel fare siffatti e simili discorsi che si ripetevano ad ogni visita ogni volta c'erano progressi ma la natura di questi progressi non la si poteva mai comunicare si continuava a lavorare alla prima comparsa che però non era mai terminata e alla visita successiva questo era per lo più un grande vantaggio perché gli ultimi tempi e non lo si sarebbe potuto prevedere erano stati molto sfavorevoli alla presentazione della stessa se talvolta sfinito da quei discorsi osservava che pur tenendo conto di tutte le difficoltà si procedeva molto ad agio k si sentiva rispondere che non si procedeva affatto ad agio e certo si sarebbe fatta molta più strada se egli si fosse rivolto per tempo all'avvocato purtroppo invece aveva trascurato di farlo e questa omissione doveva provocare anche altri svantaggi e non solo di tempo l'unica e gradita interruzione di quelle visite era leni che sapeva sempre disporre le cose in modo da portare il tè all'avvocato quando k era presente allora si metteva alle sue spalle fingeva di guardare l'avvocato che chino sulla tazza con una certa avidità versava e beveva il tè e di nascosto si faceva stringere la mano da k l'avvocato beveva mentre nello studio regnava un grande silenzio k stringeva la mano di leni e talvolta lei osava carezzargli dolcemente i capelli sei ancora qui domandava l'avvocato quando aveva finito aspettavo di sparecchiare rispondeva leni seguiva un'ultima stretta di mano e l'avvocato forbitesi le labbra riprendeva a convincere k con nuove energie che cosa voleva raggiungere conforto o disperazione k non sapeva che cosa pensare ma teneva per certo che la sua difesa non era in buone mani i discorsi dell'avvocato potevano anche essere giusti benché si vedesse chiaramente che cercava di mettersi possibilmente in buona luce e forse non aveva mai condotto un processo così importante come era secondo lui quello di k le relazioni personali coi funzionari messe continuamente in rilievo apparivano sospette dovevano forse essere sfruttate a esclusivo vantaggio di k l'avvocato non dimenticava mai di far notare che erano soltanto impiegati inferiori dunque assai poco indipendenti per la cui carriera certi sviluppi del processo potevano avere molta importanza sfruttavano forse costoro l'avvocato per ottenere quegli sviluppi che naturalmente erano sempre sfavorevoli all'imputato forse non lo facevano in tutti i processi ciò non era certo probabile e c'erano anche processi nel corso dei quali concedevano vantaggi all'avvocato in cambio dei suoi servigi poiché anch'essi dovevano tenere a che egli conservasse il suo buon nome stando così le cose in che modo sarebbero intervenuti nel processo di k che a sentire l'avvocato era un processo molto difficile cioè importante e fin da principio aveva suscitato molto scalpore in tribunale non ci potevano essere dubbi sulla loro azione un indizio era già il fatto che la comparsa non era ancora presentata benché il processo durasse già da mesi e tutto secondo le parole dell'avvocato fosse ancora agli inizi in modo da assopire opportunamente l'imputato e da mantenerlo nell'imbarazzo per poi sorprenderlo all'improvviso con la decisione o almeno con l'avvertimento che l'istruttoria era conchiusa in suo sfavore e che doveva passare alle autorità superiori era assolutamente necessario che k intervenisse di persona questa convinzione si imponeva proprio quando egli era in condizioni di grande stanchezza come quella mattina d'inverno in cui tutto gli passava per la testa senza volere il disprezzo che prima aveva provato per il processo non contava più se fosse stato solo al mondo gli sarebbe stato facile infischiarsi del processo benché in tal caso certamente non vi sarebbe neanche arrivato ora invece lo zio lo aveva già trascinato dal legale considerazioni familiari vi avevano la loro parte la sua situazione non era più del tutto indipendente dallo svolgimento del processo lui stesso con una certa inesplicabile soddisfazione lo aveva incautamente menzionato ai suoi conoscenti altri ne avevano avuto notizia non si sa come la relazione con la signora birchner pareva incerta in rapporto al processo egli insomma non era quasi più in grado di scegliere se accettarlo o respingerlo ormai ormai c'era dentro e doveva difendersi se era stanco peggio per lui non che per il momento ci fosse motivo di esagerate apprensioni nella banca aveva saputo progredire in un tempo relativamente breve fino al suo alto posto e conservarlo nella considerazione di tutti ora bastava che dedicasse un po al processo le capacità che gli avevano consentito di avanzare e non c'era dubbio che tutto sarebbe finito bene se voleva arrivare a qualche risultato bisognava prima di tutto respingere fin da principio ogni eventuale idea di colpa una colpa non c'era il processo non era che un grosso affare come egli ne aveva già conclusi tante volte a vantaggio della banca un affare in cui come di norma stavano in agguato diversi pericoli che bisognava appunto stornare a tal fine però non era lecito trastullarsi con l'idea di una qualsiasi colpa ma con la maggior fermezza possibile occorreva aver di mira il proprio vantaggio sotto questo aspetto era inevitabile revocare al più presto magari quella sera stessa il patrocinio affidato al legale secondo quanto aveva detto questo era un provvedimento inaudito e forse gravemente offensivo ma k non poteva tollerare che i suoi sforzi incontrassero ostacoli eventualmente provocati dal suo stesso avvocato e una volta levato ritorno quest'ultimo bisognava presentare subito la comparsa e possibilmente insistere ogni giorno perché fosse presa in esame a questo scopo non bastava beninteso che k stesse seduto come gli altri nel corridoio e mettesse il cappello sotto la panca lui stesso o le donne o altri invitati dovevano assediare gli impiegati giorno per giorno e costringerli a sedersi alla loro scrivania e a studiare la comparsa invece di stare a guardare il corridoio attraverso il cancello non si doveva desistere da questi sforzi tutto doveva essere organizzato e sorvegliato il tribunale doveva finalmente trovarsi di fronte a un imputato che sapeva far valere i suoi diritti ma seppure k confidava di saper seguire tutto ciò la difficoltà di compilare la comparsa era schiacciante in altri momenti anche soltanto una settimana prima aveva potuto pensare solo con un senso di vergogna alla eventuale necessità di dover scrivere lui quella comparsa e non aveva affatto pensato che poteva essere difficile ricordava che una volta una mattina in cui era sovraccarico di lavoro aveva un tratto messo da parte ogni cosa e preso il blocco per scrivere con l'intenzione di abbozzare il ragionamento di una simile comparsa e di metterlo eventualmente a disposizione di quell'avvocato lento e fiacco allorché proprio in quel momento la porta della direzione si aprì e il vice direttore entrò con una grande risata allora il fatto era stato molto penoso per k benché naturalmente il vice direttore non ridesse a proposito della comparsa della quale non sapeva nulla bensì di una barzelletta che aveva udito un momento prima e per essere intesa richiedeva un disegno sicché il vice direttore chinatosi sulla scrivania di k e toltagli di mano la matita lo aveva eseguito sul blocco destinato alla comparsa ora k non pensava più alla vergogna la comparsa andava fatta se non ne trovava il tempo in ufficio come era assai probabile doveva scriverla a casa di notte se non erano sufficienti nemmeno le notti doveva farsi dare una licenza pur di non fermarsi a mezza strada che non solo negli affari ma sempre e dappertutto è il contegno più assurdo certo la comparsa richiedeva un lavoro quasi interminabile non era necessario essere di carattere apprensivo per arrivare facilmente alla convinzione che non era possibile portarla mai a termine non per pigrizia o astuta perfidia che sole potevano impedire all'avvocato di stenderla ma perché non conoscendo l'accusa e meno ancora i suoi possibili sviluppi tutta la sua vita fino ai minimi atti e avvenimenti doveva essere rivangata descritta ed esaminata da tutti i lati oltre a ciò quanto era triste un siffatto lavoro adatto semmai al futuro pensionato per tenere occupata la mente rimbambita come aiuto a trascorrere le lunghe giornate ora invece mentre k per il suo lavoro aveva bisogno di concentrare il pensiero mentre le ore gli passavano con la massima velocità poiché era ancora in ascesa e già rappresentava una minaccia per il vice direttore e mentre giovane com'era voleva godersi le brevi sere e le notti ecco che doveva mettersi a compilare quella comparsa ancora una volta le sue riflessioni si sciolsero in lamenti quasi istintivamente soltanto per farla finita cercò col dito il bottone del campanello elettrico che rispondeva in anticamera premendolo guardò l'orologio erano le undici due ore un intervallo lungo e prezioso aveva perduto sognando e si intende era più fiacco di prima vero è che il tempo non era perduto egli aveva preso deliberazioni che potevano essere preziose immobile diffusica